Nove italiani arrestati, sette sono finiti in carcere e due agli arresti domiciliari. È l'esito di un'operazione scattata all'alba di oggi dei carabinieri del Comando Provinciale di Milano, nei territori di Milano, Como, Monza e Brianza, Benevento, Novara e Varese. I fermati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di furti e ricettazione di materiale plastico. L'indagine è già avviata nell'ottobre del 2017, diretta dalla Procura della Repubblica di Monza, e condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza con la collaborazione del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, ha consentito di sgominare una banda specializzata nei furti in aziende nel Nord Italia, operanti nel settore della lavorazione della plastica, nonché nella successiva ricettazione del materiale. Il gruppo, secondo quanto emerso, sarebbe autore di almeno sette furti e tre episodi di ricettazione per un giro d'affari di oltre mezzo milione di euro. Nel corso dell'attività sono stati rinvenuti cinque camion rubati in uso alla banda e sono state recuperate oltre 60 tonnellate di polipropilene oggetto di furto per un valore di circa 350 mila euro.